Il carrozzi sta a scopo dietro, questa è venuta arricchata, no? No, è da guidare, guarda le gambe, le tengo tutte a ranocchia. Dietro non va più quel sedile? Sì, ma non mi serve che vada dietro, mi servirebbe un sedile più alto. E' zitto che sta registrando tutto. No, 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 no. No, 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 no.